Eccoci alla domanda numero 197 del Catechismo di San Pio X. La Chiesa ha stabilito pene contro i duellanti? La Chiesa ha stabilito la scomunica contro i duellanti e contro chiunque volontariamente assiste al duello. Come dicevo la volta scorsa, i duelli della forma che c'erano ai tempi dei tre moschettieri e queste cose qui non ci sono più ma ci sono ancora come risse, come pestaggi, come scontri con la polizia, di piazza e di seguito. E la Chiesa nella sua saggezza aveva, adesso ormai ci si dimentica che è un problema che c'è anche oggi e purtroppo la Chiesa dovrebbe tornare a insegnare, a studiare il Catechismo di San Pio X per insegnare la verità, aveva stabilito la scomunica. Uno è scomunicato, ti vuoi battere con uno? Vuoi fare a botte? Vuoi fare a botte con il coltello? Con quello che sia? Scomunica. Tu sei fuori dalla grazia di Dio, sei fuori dalla comunità con la Chiesa perché non si può odiare il prossimo a tal punto da volersi vendicare con la forza. No, non lo puoi fare. Perché la scomunica? Perché ti dice che quello che stai facendo è una cosa grave che mette a repentaglio non solamente la tua vita fisica ma la tua vita è eterna, rischi l'inferno perché chi uccide, chi assassina ingiustamente per vendetta un uomo quello è un peccato mortale e chi muore in peccato mortale lo sappiamo dove va a finire al piano di sotto. Insomma, allora la Chiesa nella sua sapienza ha stabilito questa pena contro i duellanti e anche contro chi volontariamente assiste al duello che una volta erano i padrini ma anche chi sta lì a fare il pubblico, a fare il tifo. Ma come il tifo? Ma siamo dei barbari come i romani che guardavano uccidere le persone nell'arena? Ma siamo matti? Oggi ci sono addirittura dei video dove si guarda la gente che fa botte, che si scanna, che si ammazza. i video violenti e c'è gente che con la bava alla bocca come gli antichi romani va a guardare queste porcherie. La Chiesa nella sua saggezza aveva stabilito la scomunica. Ti piacciono quelle robe? Sappi una cosa, sei scomunicato. Anche se non te lo dico non lo sai lo stesso perché il Catechismo di Sampio X vale ancora oggi e se qualche prete ti dice di no sappi che è sì lo stesso. Perché questa è la dottrina della Chiesa, questa è quella che salva e le mode ecclesiastiche non salvano niente e nessuno. La Chiesa ha stabilito pene per i duellanti? La Chiesa ha stabilito la scomunica contro i duellanti e contro chiunque volontariamente assiste al duello. La Chiesa ha stabilito la scomunica contro i duellanti e dei duellanti, La Chiesa ha stabilito la scomunica contro i duellanti.